Ma è come in questo caso, ti ho beccato. Allora ti ho beccato perché hai messo a posto Instagram, perché ci stai lavorando, perché si vede che stai facendo dei passi in avanti. Allora parliamo di una fotografa secondo me molto molto brava, che lo è sempre stato, e utilizzo di solito il ti ho beccato per abbinare un concetto fotografico. Allora quindi è importante il ti ho beccato perché conosciamo nuovi autori ma poi cerchiamo di capire qualche cosa in più. Il concetto che mi ispira Silvia è quello dell'identità visiva, veramente me ne ispira tanti, c'è anche quello del carattere in fotografia che poi è abbinato all'identità visiva, c'è quello della propria ricerca nella quale bisogna credere, che poi è sempre abbinato all'identità visiva, sono tutti quanti argomenti che in qualche maniera mi stanno a cuore, perché a me la diversità in generale piace e prendo tutto quel per buono, tutto quello che in qualche maniera è diverso dalla mia visione, perché credo che sia un elemento arricchente. Vero è che io non riuscirei mai a fare le fotografie di Silvia e quindi ne parliamo in questo ti ho beccato, dicendo come al solito Francesco Verolino, street photographer napoletano, vi sto incontrando in tantissimi e questa cosa mi fa piacere perché è sempre un momento di spunto e poi mi fa piacere proprio per il rapporto umano e poi fondamentalmente like preventivo. Like preventivo è quel momento di gioia mio personale, dove quando vedo che arrivano tanti like io sono soddisfattissimo, condividiamo questo video perché secondo me ne vale la pena. Detto questo, sigla. Lei si chiama Silvia Zanaldi, allora è una signora molto perbene, una signora educata, una signora gentile e che però dietro questa sua gentilezza nasconde un carattere che è estremamente forte, questa cosa è un bene, si parte dalle proprie caratteristiche personali per poi realizzare dei lavori e lei è bella dritta sulla sua linea conduttrice da tempo e non si muove. Questo aspetto è un aspetto positivo. Silvia ha il problema di somigliare ad altre, un problema che non si pone proprio perché lei è quello che sa di essere e quindi sotto questo punto di vista lei costruisce le sue immagini. Allora sono immagini di quelle che in qualche tempo fa in pittura si sarebbero chiamate, una parte delle sue immagini, nature morte, cioè quelle nature senza quelle visioni che sono senza umanità ma intese e non senza umanità che non c'è cuore. Sono senza umanità nel senso non c'è la rappresentazione umana all'interno, quindi non sono opere figurative. Per esempio mio nonno da pittore realizzava solamente nature morte perché non gli piaceva inserire all'interno dei suoi quadri la figura umana. Io sono esattamente il contrario, lo devo mettere. La devo mettere perché questa è la mia sensibilità, però io devo dire che comprendo anche chi non lo metta. A patto che però ci sia un bilanciamento tra una estetica e un contenuto, un racconto. Allora io non mi perderei in chiacchiere, utilizzerei i miei occhiali, brillanti, bluet, e poi direi andiamo immediatamente sul desktop. Eccolo qua, questo è il profilo di Silvia, i profili che piacciono a me, quelli piccolini, quelli silenziosi, che però hanno all'interno una serie di pietre preziose. Allora, a parte questa che è la fotografia di una mano, di un quadro, va bene, che può orientarci verso qualche cosa, ma dovremmo sapere la storia. Poi abbiamo, ecco, qui cominciamo con gli still life, anche con qualche consiglio. Silvia, una cortesia, te lo posso dire che quando siamo amici, leva queste firme da qua sotto perché non c'entrano perfettamente niente. Però il suo occhio va sugli impatti cromatici, va sulle forme, va sui contrasti. È interessante, sì, ma sfogliando il suo Instagram non è mai tanto interessante come per esempio questa, che è una visione completamente differente. E qui c'è questo concetto che io dico. Geometria e quindi subito l'impatto che richiama l'occhio inevitabilmente, anche per una questione proprio di impatto cromatico, queste forme geometriche, questi parallelismi, questo fiocco, questo nodo che è qui sulla sinistra e che poi continua con un qualche cosa di differente, probabilmente un capo d'acciaio. Ora voi mi dovete dire, e qua è alla sensibilità ovviamente di ognuno, se questa immagine non fa pensare a quello che c'è dietro questi fili che sono stati utilizzati probabilmente per stendere i panni. Allora, secondo me sì, io immagino la storia, probabilmente posso immaginare che c'è un balcone a sinistra, un balcone a destra e che la signora quotidianamente stende i suoi panni. Io sono appassionato delle signore che stendono i panni. Qui i panni non ci sono, ma mi fa immaginare che sia questo. Quindi il concetto di quello che va oltre, ovviamente, in questo caso non figurativo, ma non è l'unica fotografia di Silvia perché ne vediamo anche altre. Qui il lavoro è differente perché è un lavoro nel quale, mentre in questo caso io ho solo uno sfondo, in questo caso il personaggio è uno sfondo, cioè è una parte della scena, è la scena. Quindi c'è una coincidenza fra lo sfondo e la scena e nella sua visione questa cosa è sempre ripetuta, cioè la sua visione è quella di immaginare un mondo nel quale non ci sia il distacco, mentre io li faccio avvicinare, mi avvicino e cerco sempre il distacco della scena. Le fa coincidere questa cosa, al punto tale che questa è tendenzialmente, io direi, esposta verso destra. C'è la parte nera e la figura umana è delineata e si capisce che è un pacchetto, un cappello strano, però è l'unica delle poche immagini di Silvia che in qualche maniera ha un richiamo figurativo. E veniamo poi alla sua tipologia di fotografie, che sono questi elementi statici che raccontano però, per me questa è una street photography, nel senso che è una fotografia di strada, ma non perché è fatta su strada, perché prova a suscitare una reazione. E quindi questa cosa secondo me è importante. Qui abbiamo l'abbinamento cromatico che è pertinente, abbiamo un elemento geometrico con una composizione che è tagliata in una maniera corretta. Tutto questo, poi su questo palazzo che si capisce che è antico, perché ci sono sotto le pietre e quindi questo dovrebbe essere un piperno, con questa parte poi che è stata intonacata e questi colori giallini che in qualche maniera forse Silvia ha fatto uscire fuori. Così fotografie che sono di impatto cromatico e di luce, qualcuna, questo sarà il passamano di uno a metro, qualcuna composta in una maniera geometrica dove c'è un utilizzo sapiente dello sfocato. In questo caso c'è perché lo sfocato nei particolari punta l'occhio dove vuole l'autore e in questo caso vuole l'autrice, in questo caso questo punto, questo dettaglio, il dettaglio del mosaico. Così ovviamente tante altre, qui si può vedere il dettaglio dello sfondo con il dettaglio del montante della porta, con dietro l'immagine di una porta e le porte, le scale funzionano sempre nelle immagini. Come del resto questo grande impatto per il taglio non arriva subito che il volto di una statua, arriva un attimino dopo rispetto alle altre che sono più immediate e fanno riflettere e qui bisogna riflettere sul taglio che le ha voluto dare. Queste labbra che si vedono non si vedono, il contorno, il naso, secondo me è una grande immagine e poi vediamo che ci sono anche probabilmente ricordi, anche se non sui diretti ricordi della sua infanzia, la bambola è qualcosa che ci riporta all'infanzia delle ragazzine, delle bambine, quindi devo far riflettere, questo non so se è uno dei personaggi di Napoli quando è stata a Napoli, oppure se è qualcosa di differente. Poi abbiamo ovviamente, questa è la mia preferita, anzi non le ho messo like, le metto in like e le scrivo sotto brava, perché se lo merita. Allora qui è la fotografia che richiede un attimo di attenzione e ma questa cosa per un motivo richiede attenzione perché se lo osserviamo bene noi vediamo quattro oggetti fermi, statici, ma io a questo punto mi chiederei se tutto quanto questo non riporta ai proprietari di questi oggetti, quindi alla signora con il rosario, alla gruccia, chi è, quali abiti sono andati su quella gruccia, una gruccia usata e leggermente piegata, c'è un'ombra dietro quella gruccia, quindi ci sono più elementi, perché io metto una gruccia poi su un appendi abiti, allora ci sono più elementi che fanno riflettere un contesto familiare e le fotografie di Silvia hanno poi questa capacità di andare oltre quello che è la semplice esternazione estetica di un'immagine, ci riportano da altre parti, quindi sono quasi la porta d'ingresso per entrare in mondi che sono nostri, sono creativi, sono della nostra immaginazione, non sono probabilmente mondi reali, ma questa è una grandissima capacità. Allora io ho detto questo, poiché ho presentato Silvia e ve lo faccio rivedere così ce lo ricordiamo, Silvia Zanardi, profilo da seguire, perché poi Silvia così ha un po' di sana ansia e comincia a produrre cose che sono ancora più impegnative e ci farà vedere delle bellissime cose. Allora detto questo, io ho ottenuto una conversazione su Instagram con un personaggio di Instagram che mi diceva no ma oramai noi le fotografie non le consideriamo più, noi consideriamo i reel perché c'è una forte competizione con TikTok, quindi noi stiamo spingendo i reel e le fotografie non sono sufficienti, lo sappiamo questo algoritmo che ha la deriva quindi ci trascurano i fotografi, però è anche vero che quando conosciamo un fotografo la prima cosa che facciamo andiamo sul suo Instagram, io ho presentato Cara che è pure un altro social molto valido, però lo strumento che poi ci richiama subito il fotografo e ci fa vedere le sue qualità è Instagram, vale la pena farlo bene e vale la pena essere coerenti. Io ho un consiglio a Silvia, considera che le persone ti conosceranno attraverso quello che tu produci e pubblichi. Ora i tuoi lavori sono importanti, scrivi qualche cosa nei tuoi lavori ma non per una questione indicizzazione, di visibilità, di algoritmi e tutto il resto, ma richiama con un po' di testo anche le persone e magari fai capire il tuo pensiero senza spiegare la foto perché sarebbe inutile ma fai capire il tuo pensiero legato a quell'immagine. Questa cosa ovviamente è potente, è più potente poi io comprendo tutti quelli che in qualche maniera non si mettono a fare i reel, non li sto facendo neanche io, se devo fare qualche cosa la faccio proprio però non mi va. Il concetto fotografico è quello della natura morta, cioè del concetto morto quindi non umano, ovviamente non è così, ma di elementi, prima si facevano i fiori, poi dopo i libri, poi magari si sono messi insieme più composizioni sul tavolo, poi dopo in fotografia si è trasformato nello still life, però in pittura si chiama natura morta, cioè quella natura che era lontano dalle persone fisiche e devo dire ha avuto sempre secondo me il suo perché, tanto più quanto ovviamente riesce poi a portare la mente dell'osservatore in questo dialogo che noi facciamo con le nostre immagini a tutto quello che è il contesto e l'ambiente nel quale quella natura morta esiste. Allora questa cosa è fantastica secondo me, nel senso che è una visione della street photography molto differente e io devo dire anche molto difficile perché avere l'equilibrio anche compositivo di mettere insieme più elementi e quindi di vedere prima di tutto delle cose e di metterle insieme con impatti cromatici, così come fa Silvia Zanaldi, secondo me è un grandissimo impatto. Ora voi dovete sapere che io al fotoclub di Padova, al fotoclub di Silvia Zanaldi, al quale appartiene Silvia Zanaldi come socio, io ho tantissimi amici, cioè ma veramente tanti, ho anche una persona, Carlo Galeotto, ne ho parlato tante volte qui sul canale, che io dico Carlo e te siamo uguali ma ci hanno separato alla nascita, un padovano e un napoletano. Allora io direi a Silvia, che secondo me lo farà, direi a Silvia di portare il mio saluto a tutto il fotoclub di Padova. A proposito, Silvia è una fotografa slow perché l'ho vista fotografare, per lei l'esperienza è più importante rispetto al risultato, quindi ricordatevi slow photographer e se vi volete avere una lettura che secondo me è di grande orientamento, io vi consiglio di prenderlo su Amazon, slow photographer, l'ho cercato, è facilissimo, ma anche nel link nella descrizione. Silvia porta i miei saluti a tutto il fotoclub di Padova, a tutti gli amici che in qualche maniera io conosco, quelli che io non conosco, però credo che sia veramente importante. Un abbraccio pure a quelli un pochettino più larghi che ora stanno dimagrendo, un abbraccio perché l'abbraccio è bello secondo me, molto molto bello. Silvia, a prestissimo, cioè ci vediamo. Ai miei amici, qui dico a prestissimo, ragazzi, io vi ringrazio per tutto quello che in qualche maniera, anche in maniera, cioè senza saperlo, voi fate per me. Un grazie a tutti quelli che hanno messo il like preventivo, a tutti quelli che lo stanno mettendo in questo momento, a tutti quelli che si sono iscritti su questo video, grazie a tutti, ma sì dai, perché voglio dire, un po' di gratitudine secondo me non fa mai male. Un abbraccio, a prestissimo. Un abbraccio, a prestissimo. Un abbraccio, a prestissimo.